Bio, organico e commercio equo e solidale. Oggi analizziamo le certificazioni del caffè. Alla fine di questo video capirete cosa offre ognuna di esse e come potrebbero esservi utili all'acquisto del caffè e non solo. Mi raccomando, rimanete fino alla fine perché in questo video ci possono essere spunti di riflessione interessanti nei confronti della vostra attitudine verso queste certificazioni non solo da applicare al mondo del caffè ma a tutto il cibo in generale. Ciao, sono Gianmarco, benvenuti o bentornati sul mio canale. Qui troverai tutto quello che c'è da sapere sul caffè in un modo semplice ma completo. Videotutorial, recensioni, curiosità, storia, videotecnici e anche momenti divertenti. In questo video esamineremo le seguenti certificazioni. La prima è il Fair Trade International. Questo è il marchio più comune e la cosa si fa leggermente confusa perché ci sono diverse organizzazioni che usano lo stesso nome come Fair Trade USA ma sono diverse e separate. Parleremo anche di Rainforest Alliance che nel 2018 si è fusa con un'altra certificazione UTZ. Parleremo anche del Caffè Biologico che è l'unica certificazione legalmente definita. E poi Bird Friendly. Non voglio mentire, questo video è stato difficile da realizzare. Il mondo delle certificazioni è confuso, complicato e francamente spesso piuttosto noioso. Ma non preoccupatevi, anche qui cercherò di rendere interessante ciò che in realtà non lo è. Analizzeremo ognuna di queste certificazioni secondo la seguente struttura. In primo luogo andremo a definire ognuna di queste certificazioni ed il loro valore aggiunto. Poi le pratiche di lavoro, cosa considerano queste certificazioni come essenziale per evitare cose come lo sfruttamento. E poi le pratiche agricole, cosa viene considerato importante nel modo in cui vengono trattate le piante o il suolo ad esempio. L'elegibilità, chi può effettivamente ottenere queste certificazioni. Infine ci soffermeremo sull'impatto che queste certificazioni hanno sulla qualità del caffè. Le certificazioni sono una sorta di scorciatoia servono per cercare di aiutarvi a prendere una decisione migliore e più facile quando si tratta di scegliere tra diversi prodotti con o senza di esse. È importante notare come queste certificazioni in realtà non si facciano concorrenza tra di loro ma piuttosto si incroccino in una serie di requisiti e di normative che le mette in contatto. Più avanti nel video vedremo come per ottenere determinate certificazioni bisogna essere in possesso già di altre. Se ricordate, nello scorso video ho detto che i termini bio ed organico non sempre rappresentano la massima qualità del prodotto. Infatti, più che la qualità del prodotto è utile pensare a queste certificazioni come ad un insieme di valori. Per questo motivo non posso dire che una di queste certificazioni sia in qualche modo migliore delle altre ma potrebbe essercene una che si adatta a te e ai tuoi valori meglio di altri. Più avanti nel video analizzeremo anche il motivo della netta assenza di queste certificazioni nel mondo del caffè specialty se non in rarissimi casi. Senza ulteriori indugi definiamo ognuna di queste certificazioni ed il loro valore aggiuntivo. E per molte persone questa è la parte più importante. Si tratta però di un argomento spinoso, delicato ed oscuro anche alla maggior parte delle persone che lavorano nel mondo del caffè. Non credo sia opportuno addentrarsi nei meandi specifici riguardanti sistemi di prezzo basati su quotazioni in borsa, differenziali applicati, sigle come FOB o Farmgate quindi preferisco mantenere un livello basico per quanto riguarda l'argomento nello specifico. Se poi l'argomento vi interessa per favore aiutatemi a supportare il canale commentando, condividendo questi video con quante più persone possibili. Fair Trade International Indica in tutto il mondo la famiglia dei marchi di certificazione etica Fair Trade. Fair Trade, staccato, è traduzione di commercio equo ma non indica in nessun modo la certificazione simboleggiata dai marchi Fair Trade, tutto attaccato. Se un prodotto si dichiara del commercio equo ma non mostra il marchio Fair Trade, si tratta di un falso. Fair Trade International crea gli standard per la certificazione Fair Trade ma il processo di certificazione vero e proprio viene svolto da un'organizzazione leggermente separata chiamata Flossert. Si occupano della parte di conformità sul campo, Fair Trade è un'organizzazione senza scopo di lucro che si considera un movimento di cambiamento guidato dalle persone che lavora con i contadini e i lavoratori per migliorare gli standard di vita, per il benessere della comunità e per l'ambiente comune. Fair Trade International è l'unica certificazione di cui parlerò oggi che prevede uno specifico meccanismo di prezzo minimo garantito basato su diversi fattori. La prossima è Rainforest Alliance che se non la conoscete è una ONG, sigla di organizzazione non governativa. Organismo senza fini di lucro, per lo più di carattere umanitario che nei paesi in via di sviluppo gestisce per l'incarico del governo di uno o più paesi sviluppati o di organismi internazionali alcuni servizi essenziali come scuola, sanità, sviluppo all'agricoltura e molto altro. In questo caso con lo scopo di proteggere la natura e migliorare la vita degli agricoltori delle comunità forestali rendendo le imprese responsabili la nuova normalità. Attualmente Rainforest Alliance non ha meccanismi di prezzo fissi o minimi. In sostanza è il libero mercato a decidere il valore della certificazione per i produttori. Se gli acquirenti sono disposti a spendere di più, il produttore guadagna di più per la sua certificazione. Passiamo all'agricoltura biologica che è un sistema di produzione alimentare che esclude l'uso di prodotti e composti chimici di sintesi e si concentra su principi rigenerativi, gestendo essenzialmente la conservazione del suolo, dell'acqua e dell'energia per la salute dell'ecosistema e per la biodiversità. Si cerca di costruire un'azienda agricola più robusta e resiliente, coltivando in modo olistico. Nel contesto delle certificazioni del caffè è fondamentale comprendere la distinzione tra biologico ed organico in Italia. Mentre il biologico è strettamente regolamentato da leggi specifiche e richiede certificazioni ufficiali, l'organico non gode di una definizione ufficiale e non è soggetto a controlli formali. Curiosamente il termine organico può risultare ingannevole, poiché potrebbe suggerire un legame con l'inglese organic, che equivale a biologico. In realtà in italiano si riferisce a cibi non processati industrialmente, come frutta, verdura, pesce e carne di origine naturale. Tuttavia va sottolineato che la semplice etichetta organico non garantisce automaticamente la salute o la qualità biologica del prodotto. Tuttavia esistono produttori organici che rispettano gli stessi elevati standard ambientali ed etici dei loro omologhi biologici, offrendo prodotti di eccellente qualità. Il prossimo è Bird Friendly, una delle certificazioni che offrono più garanzie al consumatore dal punto di vista ambientale. È stata creata negli Stati Uniti dallo Smithsonian Migratory Bird Center, allo scopo di proteggere l'abita degli uccelli migratori. I suoi criteri di certificazione sono basati su anni di ricerca scientifica. La certificazione Bird Friendly non prevede alcuna meccanica di prezzo, anche se il caffè deve essere biologico. Parliamo ora delle pratiche agricole. Le sfumature e i dettagli sono davvero difficili da coglierevi. Per darvi un'idea di quanto questi standard siano complessi, il commercio eco e solidale, ad esempio, copre aree chiave per la protezione dell'ambiente, come la riduzione delle emissioni di energia e di gas serra, la qualità del suolo e dell'acqua, la gestione dei parassiti, la protezione della biodiversità, il divieto di organismi geneticamente modificati e di sostanze chimiche nocive e la gestione dei rifiuti. Rainforest Alliance ha un elenco simile di argomenti, ma si concentra su un approccio leggermente diverso e sembra essere più focalizzato su un processo di sviluppo e sulla fornitura di un quadro per il cambiamento e lo sviluppo, per promuovere il miglioramento continuo. L'agricoltura biologica copre ovviamente molte delle stesse basi, costruite su quelle idee fondamentali di assenza di prodotti agrochimici, di sintesi e di agricoltura rigenerativa, volta a migliorare la salute e la resilienza del suolo. È veramente difficile tradurre il tutto in qualcosa di semplice e digestibile per voi, ma anche in questo caso cercherò di lasciarvi tutti i link in descrizione per i dovuti approfondimenti. Bird Friendly è più specifico e per un certo verso semplice. Alcuni di questi requisiti prevedono che la coltivazione debba essere esente da prodotti chimici e ottenere una certificazione biologica. L'altezza della canopia, in biologia si intende come proiezione superiore di una comunità di alberi, deve raggiungere almeno i 12 metri. Ci devono essere almeno 10 specie di alberi. La copertura fogliare deve essere in ogni momento di almeno il 40%. Inoltre, il sistema agroforestale deve presentare un profilo diversificato, una struttura caratterizzata da almeno 3 strati di foglie, in modo da poter accogliere specie di uccelli che frequentano livelli diversi. Passiamo ora alle pratiche di lavoro. Argomenti comuni a tutte le certificazioni sono le politiche di tolleranza zero per cose come la violenza di genere, il lavoro minorile, gli abusi o le molestie. Inoltre, è prevista la tenuta di registri per tutti coloro che lavorano nell'azienda agricola, come i raccoglitori di caffè che devono essere pagati in modo equo, trasparente e tempestivo. Anche se la retribuzione equa per questo tipo di lavoratori è un argomento un po' controverso e privo di standard significativi, almeno per il momento. Parliamo ora di ammissibilità. Quali sono i criteri per ottenere l'eleggibilità per queste certificazioni? Qui ci sono alcuni aspetti molto interessanti. Fair Trade International certifica solo gruppi di produttori che devono essere organizzati democraticamente e devono essere costituiti principalmente da produttori su piccola scala, oltre il 66%. L'azienda agricola di un produttore su piccola scala deve essere gestita dal membro del gruppo e dalla sua famiglia e non può assumere mano d'opera permanente. I produttori più grandi con aziende agricole tra il 5 e i 30 ettari possono aderire ad un gruppo di produttori, ma la maggior parte, più del 50% del caffè certificato che il gruppo produce, deve provenire da questi piccoli produttori. Ciò significa che se si possiede un'azienda agricola più grande, non si può ottenere la certificazione Fair Trade International. Questo è uno dei motivi per cui Fair Trade USA è un'entità separata che mira ad ampliare la platea dei produttori in grado di ottenere la certificazione. Rainforest Alliance non ha alcun requisito di ammissibilità. Infatti anche gli altri membri della catena di approvvigionamento che lavorano il caffè possono essere certificati. Anche le certificazioni biologiche sono aperte e spesso diverse entità della filiera devono essere certificate, e qui fate molta attenzione, affinché il prodotto finale possa essere venduto come biologico certificato. Le certificazioni bird friendly richiedono una certificazione biologica, quindi si potrebbe sostenere che solo aziende agricole biologiche sono idonee ad essere bird friendly. Parliamo ora della qualità delle tazze. Credo che questo sia un argomento importante da discutere soprattutto per coloro che guardano questo canale e che si preoccupano della qualità del caffè che bevono. Il commercio eco incoraggia i produttori a migliorare la qualità delle tazze, ma in definitiva la sola certificazione non garantisce la qualità in un senso o nell'altro. Rainforest Alliance poi non ha requisiti di qualità. Quando si parla di agricoltura biologica, la questione della qualità è un po' controversa. Non è una componente della certificazione, ma vale la pena affrontarla brevemente. Alcuni sostengono che i prodotti biologici hanno un sapore migliore, che questo tipo di agricoltura dovrebbe produrre alimenti più nutrienti e gustosi. Altri sostenitori del biologico sostengono che non ha un sapore migliore e che parlare di questo non coglie l'obiettivo più ampio del biologico, ovvero il tentativo di migliorare il modo in cui coltiviamo e interagiamo con la terra e ciò che riusciamo a produrre da essa. Secondo la mia personale opinione ed esperienza, il caffè biologico può essere altrettanto delizioso di quello prodotto in modo convenzionale, ma anche in questo caso non è necessariamente una garanzia di qualità. Seguitemi bene in questo ragionamento. Vorrei osare nel dire che un prodotto di qualità nel senso oggettivo ed assoluto del termine non può che non essere bio, mentre il contrario non è sempre valido, poiché qualità considerate inferiori dello stesso prodotto possono essere prodotte in maniera biologica o addirittura le stesse qualità di un prodotto X, seppur coltivate in maniera bio ma in condizioni climatiche ed altitudini diverse, ad esempio, non risulteranno allo stesso livello. E questo mi porta al tema del caffè specialty e all'ampia mancanza di certificazione per questi caffè. Molti caffè specialty provengono da aziende agricole che potrebbero essere troppo grandi o impiegano troppo personale per poter ottenere ad esempio una certificazione fair trade. In alcuni casi i coltivatori possono avere una certificazione aggiuntiva, ma la catena di approvvigionamento potrebbe non mantenerla e quindi non si saprebbe che proviene da un'azienda certificata. I prodotti biologici ne sono un buon esempio. Questo intero video è stato uno spunto di riflessione per me e spero lo possa essere anche per voi. In un certo senso ha cambiato il mio modo di pensare. E qui mi contraddico. Si è parlato di qualità, qualità e qualità. Forse a scapito di altri aspetti. Prendendo il biologico come esempio, dove ci sono buone prove che si ottengono cose come la resilienza del suolo, una fattoria che è in grado di resistere meglio alle variazioni climatiche, una generale armonia tra l'interazione che l'uomo ha con il terreno, questo dovrebbe essere abbastanza già di per sé. Ma si sa che l'essere umano a fatica si accontenta e questo è sicuramente un grande dono, ma anche una grande condanna. Ma adesso voglio sapere da voi. Ci sono altre certificazioni che non ho citato, delle quali siete particolarmente a favore o sfavore? Avete scoperto qualcosa di nuovo tramite questo video? Cosa ne pensavate delle certificazioni prima e cosa ne pensate adesso? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Grazie a tutti del supporto e ci vediamo nel prossimo video.